Sono qui adesso al teatro dell'opera, ho comprato un biglietto per questa sera, c'è una ballata, si chiama Don Quixote, mi hanno parlato molto bene, il teatro è bellissimo, adesso vi farò vedere, perché è stato progettato da due fratelli austriaci che hanno progettato 42 teatri in Europa e il più bello è questo qua perché è stato costruito per ultimo. Infatti è bellissimo, adesso entriamo, manca mezz'ora però, comunque non ci sono solo io. Ora prendo il biglietto. Ok, grazie. E' bellissimo questo teatro. E' bellissimo. E' bellissimo. E' bellissimo. Ok. Ok. Poi sempre il teatro, ho visto dove è il mio posto, adesso faccio un giro. E' bellissimo. E' bellissimo qua, mamma mia che roba, che lampadari, cioè le colonne, veramente bellissimo. Ciao. E' bellissimo qua. no 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 Sì, c'è un po' centrale. che teatro qua che hanno che teatro mi han detto che è tutto pieno saluti grazie a tutti 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 grazie a tutti